Come passa Simone Berti questo periodo nel suo studio giardino? Lo passo facendo molti lavori in casa, cioè sto sistemando lo studio praticamente e contemporaneamente sto dipingendo. Per fortuna avevo abbastanza materiale a disposizione, cioè telai, tela e niente, mi sono messo a lavorare. Tutte queste cose che si possono vedere non sono fatte in questo mese di quarantena. E poi l'idea degli alberi però è nata lontanissimo. Guardando le radici nei parchi a New York, anzi ancora prima, leggendo Sartre, la nausea, descrive un tronco d'albero con muschio, insetti, funghi, muffe, l'odore dell'umidità, i colori forti, i nodi delle radici. C'è una specie di organicità strabordante, un eccesso di esistenza che mi ha dato una forte sensazione. E insomma questa faccenda tra me e gli alberi è una questione risolta da molto tempo. E così l'autunno scorso mi sono messo a creare questa piccola foresta. E questo aiuta la permanenza anche all'interno degli spazi, degli ambienti? Beh sì, diciamo che mi dispai parecchio. Cioè diciamo che non sto facendo molta fatica a sopportare questa quarantena perché sto facendo il lavoro che vorrei fare, vuoi fare. E quindi niente, ormai sono, penso, una ventina di più di alberi di varie dimensioni e varie fogge. E niente, quando finirà questa quarantena, prima o poi li vedremo, li vedremo interi. Grazie. 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 Grazie.